Oggi è già stato il primo giorno 26 dalle 9.30 in poi E quindi se volete venire siete ovviamente ben accetti Con appunto È la mia prima fiera quindi sarebbe anche abbastanza emozionato Perché non so cosa si farà nei cose varie E poi c'è anche l'occasione Di poter incontrare qualcuno di voi Quindi se volete venire magari anche a dirmi Ciao, come stai? Siete ovviamente ben accetti Allora ovviamente per entrare Bisogna pagare ragazzi 12 euro Una cosa tremenda Comunque appunto se volete Io il obiettivo l'ho preso dal sito ufficiale Se volete in descrizione vi lascio il sito ufficiale Dove appunto c'è scritto come prendere i biglietti Cosa si farà I vari stand che ci saranno Ma soprattutto ci saranno le indicazioni stradali Di dove si terrà questa fiera Quindi boh è una cosa un po' tattica Io partirò addirittura alle 7.40 Perché prenderò il passante della mia città Poi arriverò in Duomo In Duomo troverò Incontrerò, rincontrerò Quel mio fan che ho conosciuto Edimburgo il Fischio Che saluto E poi basta Quindi in poche parole Vi volevo dire questo Quindi io domani sarò a Game Freak Poi un'altra cosa che volevo fare in questo video Era di aprirvi un pacchetto In live Perché appunto non potevo fare solo un vlog Come vedete qua ne avevo già aperto uno Come al solito Ho trovato delle bestie Solo cosa è successo È successo che Prima infatti Questo qua è il secondo tentativo di fare questo video Perché era venuto abbastanza lungo E poi non sapevo bene cosa dire Quindi Io andrei ad aprire No Voglio Voglio le Alaba alaba Due rossi Va bene Doppia maglietta È sempre fortunata Vediamo Magari così sono più fortunato Vediamo Come vedete sto stramigliorando 29 36 31 Oh my god Martin Strano Ho trovato un giocatore oro Quindi sono anche abbastanza contento Minchia I 93 Maddo se si trovava a Bicitella Era un qualcosa di epico Quindi ragazzi In poche parole Io volevo Volevo dire Sono questo E detto questo Quindi Ah ecco Ovviamente Non so se avete visto Ma ora sto tenendo una Pettinatura Una capigliatura Diversa dal solito Quindi Avrò i propri capelli in piedi Ehm Appunto domani E ovviamente Sarò vestito in modo diverso Però l'aspetto sarà quello Dovrei essere già alle nove e mezza Proprio all'inizio All'entrata Quindi se volete venire Siete ben accetti Ovviamente Potete venire in giro Come alla grande Quindi ragazzi Allora detto questo Io E ci sarà anche Ci sarà anche Ci sarà anche Ci sarà anche Un minchia Quindi Una cosa un po' tattica Poi volevo dire Che se non l'avete ancora fatto Andate a vedere Il mio secondo canale Dove ieri Ho caricato una mobile live Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potente A parerci Nel prossimo video Bolla Yeah buddy Praticamente domani ragazzi Che è il Aspettando un secondo Che Merda Allora Ciao Grazie a tutti.